Saluti a tutti e devo dire che sono molto molto felice, commossa di vedere questa accoglienza, questo amore devo dire di tutto il popolo napolitano per la famiglia. Grazie a tutti, è una giornata molto importante questa. Ho sentito delle cose molto molto belle stamattina e poi con dei sindaci come il nostro caro amico, la storia si sta ricominciando a parlare. Avete visto amici, era doveroso fare uno speciale per questo momento perché abbiamo visto la principessa Beatrice di Borbone, quel suo sorriso, quella sua contentezza di quello che era accaduto perché sabato 13 aprile è successa una cosa importantissima a San Giorgio a Cremano. La piazza importante, la piazza centrale, piazza municipio è diventata piazza Carlo di Borbone che tanto ha fatto per San Giorgio a Cremano perché ha fatto costruire la reggia di Portici, ha fatto sì che si costruisse il Miglio d'Oro che è qualcosa di eccezionale. Il sindaco insieme alla sua giunta e tutto il resto hanno voluto lavorare, tutti gli altri collaboratori, professori, esperti affinché questo potesse accadere. Non dimenticando che è molto difficile cambiare la toponomastica in quanto siamo ancora sotto una legge del 1925. Per cui io credo che da San Giorgio a Cremano oggi venga fuori un piccolo grande segnale di inversioni di tendenza e di riappropriarsi di quella che è stata la nostra storia e di cui per tanto tempo siamo stati espropriati. Grazie ancora al sindaco, grazie ancora alla Grazie ancora al sindaco, grazie ancora al sindaco, grazie ancora al sindaco, grazie ancora al sindaco. Buongiorno a tutti, per me è oggi un piacere essere qua insieme a voi per questa situazione. Ovviamente abbiamo comunque dovuto fare un passaggio della sala consigliare, speriamo abbastanza veloce per poter continuare le attività della giornata che tra l'altro vedrà anche i ragazzi della Massaia e i ragazzi della città dei bambini a vedere dei incontri anche subito dopo la supertura della targa e di fatto ringrazio il dirigente Enzo De Osa che è stato raggiù che ci ha dato una mano come sempre nell'apporto di istituzioni scuole, istituzioni comune e per noi è oggi un giorno importante. Quando l'assessore De Martino riportò a noi tutta giunta la volontà di approvare la modifica del toponimo di piazza a municipio, Carlo di Corbone per noi è stato una persona, un personaggio della storia che negli anni non è stato valorizzato ma che per fortuna può pubblicare pure storie che oggi ne abbiamo la realtà, colui che ha avviato quello che è l'importante sviluppo culturale e sociale del nostro territorio. Noi quando identificiamo San Giorgio, molti oltre lo identificiamo da un lato a livello sentimentale con la figura di Massimo Troisi, in via di Piero Moschese ma infatti la foto di Massimo Troisi che ha rappresentato un punto importante di rapporto tra la città e una persona che l'ha rappresentato. Molti lo rappresentano con la scuola Radiosradmissioni perché sono passate centinaia di migliaia di persone in quella scuola ma molti di noi, quasi tutti, lo riconoscono come le 30.000 vesuliane e il cosiddetto migliotoro. Quando noi ci troviamo fruttati sovracomunali a discutere lo sviluppo del nostro territorio, qual è la particolare peculiarità del nostro territorio è che noi siamo parte di quel migliotoro delle 120 libri del Settecento e del parte dell'Ottocento che hanno caratterizzato una parte del nostro territorio e che hanno dato la valorizzazione e quindi anche i finanziamenti che la regione Campania ma anche che la comunità europea e su questo viene ringrazio anche il donatore Francesco Correlli che è vicino anche rispetto ai finanziamenti che per fortuna vivono da parte della regione Campania arrivano tramite quello che richiede il migliotoro. Ebbene quel migliotoro di cui noi ci preggiamo come identità cittadina che dall'altro lato rappresentano la nostra città e anche la possibilità di sviluppo del nostro territorio si devono a Carlo di Borbone. Abbiamo visto le immagini che sono stati tolti i drappi dal busto di Carlo di Borbone e la lapide nell'androne del palazzo di città di San Giorgio e Cremano, abbiamo visto l'intervento del sindaco, sicuramente ci colleghiamo ancora con la regia per farci vedere degli interventi delle persone più importanti o comunque tra le persone più importanti che hanno partecipato a questa manifestazione. La toponomastica è lo strumento per recuperare e valorizzare la nostra storia. Attraverso il rapporto di eventi significativi e di personaggi che per loro di lapide opera hanno reso grande il nostro territorio, che hanno formato la nostra identità e senso di appartenenza. Un patrimonio che ci appartiene e che abbiamo il dovere di non dispendere e di trasmettere in particolare le sue generazioni. Ancora oggi sull'intervento di scuola si legge che al momento di identificazione c'era un'ordine industrializzata ed in sud all'età, un'ordine assoluta e iniziata nel provincia del sud dopo il 1860, dopo il saccheggio delle nostre industrie e con il continuo tentativo di cantellare la nostra identità. Un percorso della valorizzazione dei toponi iniziati in questa città da oltre 20 anni, con la posizione di Piazza Canipati dedicando dal nostro grande Massimo Torni, grazie al nostro sindaco Aldo Venna. Ripreso poi da qualche anno con la titolazione di una stade a Marti di Chirazza, a ricordo degli operai uccisi nell'agosto del 1863, durante una pacifica manifestazione di protesta contro il tentativo cittadino della famosa catturica beccanica voluta da Feminando II dei Corbiotti, dando il giusto riconoscimento alle vittime di una tragedia volutamente dimenticata, avvenuta nell'attito da una repressione sapata. Lecidio conta anche vittime di nostri concittadini. Lecidio sono completamente contento della scelta coraggiosa che ha fatto il sindaco. La scelta coraggiosa è una scelta che ovviamente ci ha lati scuri e lati chiari. A mio interesse molto oggi, in questo giorno di festa, lati chiari, la belle di questa scelta. Non parlare per esempio di canotezzo, questa è una cosa che mi ricordo tantissimo, perché spesso a coltura ha voluto affiddiare questo numero e il numero che gli spettano in Spagna e quindi significa quasi che non ci apparteneva. A lui è stato 25 anni il re qua, quindi senz'altro è positivo chiamarlo cavolo di popolo, chiamarlo cavolo settimo, come poteva essere. Ancora positivo è dedicare questa piazza ai bambini e ai giovani e questo è fondamentale, perché il marmo resta nel tempo, a chiudo la curiosità di questi giovani napoletani che potranno trovare il modo per riscattarsi in futuro. Ancora è positivo il fatto di sottolineare che non c'è nessuno spirito devancisto o monarchio in questa scelta. Perché? Perché noi parlerò bellissimamente dei valori, che non significa tornare nel passato, non significa per forza voler cambiare delle istituzioni, addirittura una nazione. Non è questo che ci interessa. Ci interessa mettere in evidenza le cose buone che lui fece e che ancora oggi possono essere dei esempi che le amministrazioni locali e nazionali potrebbero eseguire. Carole Popone inaugura la dinastia dei Popone due Sicilie, la quale ha un particolare valore che bisogna mettere in evidenza. Le tante decretate di Resuliano dicevano chiaramente che cos'era. Era un tentativo di obbligare i cosiddetti baroni a costruirsi delle sedi stabili politiche nel Resuliano in modo che i re li potesse controllare almeno negli attivamenti. Venivano dalle parti più locale dei dettori napolitani per poter essere controllati il re. E questa è una cosa bellissima. I valori erano i potenti di allora, erano i diritti di oggi e quindi bisogna avere qualcuno che avesse il potere di limitare le loro ambizioni e di occuparsi sensibilmente di quello che il popolo vuole aspettare. Ecco perché i popolo sono amatissimi dalla popolazione. Ed ecco perché è un messaggio importante che noi oggi lanciamo da San Greco a Cremasso. Perché i popoli furono amatissimi, proprio perché da Carlo Incolore fino a Francesco II sono quelli che fecero poi questa politica, significarono anche i valori pur di aiutare la popolazione. E allora questo è un messaggio importante che i nostri antenati sapevano bene. Non erano due fazioni, almeno allora, almeno il risorgimento. Erano due fazioni a livello culturale, a livello intellettuale, non a livello popolare. Il popolo è stato sempre tutto con i polvoli. E si è fatto uccidere quei polvoli consapevoli. Grazie. Io dirò soltanto pochissime parole. Io sono un magistrato e vengo qui come direttore però di una rivista storica di studi storici da Alfiere che nel 1960 è stata la prima a aprire il movimento di revisione storica per quanto riguarda il Mezzogiorno. Sono state tante cose belle, tante cose giuste. Io dico solo questo. Dobbiamo avere un po' di coraggio, come ha detto Alvo Ghella. Perché una taglia stradale serve a ricordare al popolo i personaggi nei quali il popolo si identifica o personaggi che, se il popolo li conoscesse, potrebbe trarre dei valori edificanti. Oggi voi sapete che, per esempio, a Napoli, chi passa per Piazza Garibaldi, non manda delle benedizioni di soldi nei confronti di quella staglia che promessa in quella piazza. E sul lungomare quel baffuto signore severo che ordinò la strage di Milano con Papa Beccaris, non credo che appartenga la nostra cultura, che sia un benedetto della civiltà del sud. Allora, le tante stradali, le intitolazioni dovrebbero corrispondere al sentimento popolare. Capisco che il sentimento popolare a volte segue le mode o può essere effimero, ma parliamoci di altri. Sono le pietre a parlare sulla grandezza di questi sovrani nei loro chiaroscuri, perché Carlo di Borgon appartenevano dinastie di stampo assolutistico e l'assolutismo era quanto di più contrario alla civiltà giuridica di Napoli. Però è per il grande pregio di entrare in sintonia con il popolo del sud e a saperlo ascoltare. Si innamorò di Napoli, come accade a tanti che vengono a conoscere la nostra civiltà, e fece grandissime cose. È per il pregio di pensare in grande, di pensare in grande. Quindi io applaudo con tutto il cuore questa bellissima iniziativa e purtroppo c'è una certa borghesia retro legata alla vecchia vulgata che domina nelle accademie e spesso anche nei buoni di potere. e questo impedisce, per esempio, a Napoli di fare un'operazione altrettanto. Applausi Anzi, ma il corso è sponterà uno dei comuni bene meriti, così come Scafati, dove fu intitolata la prima scuola a Ferdinando II, e anzi io vi do una bella notizia che ho avuto proprio ieri, che Ferdinando II, se voglio, avrà intitolato una piazza in comune a Bastogano, in provincia di Caserta. Applausi E si vuole una costellazione di verità e di libertà, perché la riscossa dei propri su questo nasce. Applausi Buongiorno Altenza, grazie al sindaco Zinno, all'assessore De Martino, mi ricollego alle parole del professor Gulli e del dottor Vitale e a tanti altri. Io al momento sono musicologa, mi occupo dello studio dell'opera della scuola napoletana, della nostra appunto scuola. Al momento sono a Chicago, dove insegno lì all'università, vorrei tornare qui a Napoli in particolare. Sono pugliese, però mi sento napolitana, mi definisco napolitana. Applausi Per esempio che è un secondo studio da, insomma, la mia ricerca appunto, in particolare appunto della nostra scuola napoletana, non c'è, spesso penso a Carlo Di Corbone, al nostro re, perché è stato lui che ha messo grande e ha dato la possibilità a Napoli e alla scuola napoletana di creare, insomma, di dare la possibilità alla nostra cultura di essere grande, non solo a Napoli, ma anche nel mondo e di riportare dal mondo la grandezza a Napoli. Applausi Quindi sono riconoscente ai nostri re, insomma, ai nostri sovrani e soprattutto a Carlo Di Corbone e sono onorato di essere qui oggi ed è una delle figure di riferimento per tutti, perché la musica, la cultura appunto, sono delle cose al resto dei quali si possono trasmettere tanti messaggi sottili, quasi anche nascosti, però sono quelli che ci possono ricordare quello che è un nostro, DNA, non biologico, non spirituale, ma culturale, che potremmo riprendere, ricoltivare, per ritornare ad essere grandi e, come dico sempre, riappropriarci di quello che è già il nostro. Grazie. Applausi Va bene, allora, io devo solo ringraziare con grande affetto anche con molto il sindacosismo, la Sessione del Martino, la Città Comunale, state di ringraziare anche, sicuro che per noi non propone, ci sono dei differimenti storici e puntuali di questo territorio, vedo qui, Aldo Re, perché conosco, appena appena da due anni, il professor Culi, a Cio di Giaco, sono tutti quelli che a San Dornio, in qualche modo, hanno rappresentato questa storia e questa cultura, semplicemente questo, due bambine, tanto Gessi, nati qui, mia moglie di San Dornio, quindi sono particolarmente con molto stamattina, e posso solo ringraziare tutti voi, per questa bellissima mattinata di storia di cultura, che ho chiamato sui nostri passi soli, una festa dell'orgoglio. Il progetto dell'orgoglio non è andare indietro dal tempo, ma è memoria, orgoglio e riscaldi. Io sono contento stamattina per questa scelta del Sindaco, per questa piatta, perché siamo convinti che dalla memoria si possa passare dall'orgoglio, dall'orgoglio del riscatto, e soprattutto per i gruppi di San Dornio, che erano 7 e 11 anni. Grazie, grazie. Abbiamo visto quanta passione e quanta sapienza c'è nei personaggi che si occupano di meridionalismo, parole che poi strappano l'applauso perché si sente istintivamente il bisogno di applaudire, e a un certo punto però di questo momento si è materializzato Carlo di Borbone, ovvero un attore importante, Francesco Maienza. Vado a leggere perché lui appartiene alla Compagnia della Città e Fabbrica Voitila di Caserta. Sperando che l'ho detto bene, Francesco, perché è stato meraviglioso. Io vorrei farvi vedere almeno un pezzettino perché veramente tocca l'anima. Che sorpresa bonita che mi avete fatto! Mi avete intitulato una placa. Grazie, sono honrato. Dovete essere orgulloso di vostra città e di che non avete il coraggio di fare il mio nome. Vedete, del mondo dove vivo io se vede tutto quello che succede qui e non sempre sono cose boniche. Però, qui sopravvive una delle perle del nostro regno, il nidio di oro. Non date ascolto a chi dipinge la mia famiglia in blanco e negro. Io ho utilizzato le parole di erode. Abbiamo fatto tanto. Potevamo fare meglio. Potevamo fare più. Ma, quello che aveva prima qui, in questa placa, cosa ha fatto per voi? Io ho provavo fare meglio. Vi sono, non voi vedi e sono! O come vi ho parlato degli italiani, perché voglio parlare la vostra, il nostroépio di napoletano. come era bonita San Giorgio quando Nápoles era capitale teatros, palacios, fabriques a volontà e Villa Manuqui come era una delle tante villi monumentali del Medio d'Oro voluta da Giacomo di Aquino di Carmanica mi amigo e qui non se dispense mi cuidado il ministro Bernardo Tanucci lo accuiste e voleste bene e ora in questo dia lieto tenete lontano le polemiche la storia è una cosa seria non può essere di parte e quindi festeggiiamo juntos il ritrovato a bravo la vostra terra è molto bella io e i miei figli l'hiamo querida molto quindi per la Repubblica Italiana alziamo lo scalete e si brindiamo per la nostra storia uno spendato di affetto viva San Giorgio viva la storia è stato meraviglioso veramente strappa applausi e come avete notato attraverso le immagini c'erano più tv telecamere telefonini veramente la scena è stata ripresa da tanti punti e il pubblico veramente è rimasto soddisfatto di questo però poi a un certo punto siamo rientrati nella realtà e tutti hanno accolto con grande piacere la principessa Beatrice di Borbone che è arrivata appunto da principessa e guardiamo un attimo questo momento l'importanza che sta di San Giorgio a Cremano e il riconoscimento che abbiamo voluto dare è Carlo di Borbone grazie buongiorno a tutti spero di non fare questa cosa vorrei ringraziare tutte queste belle parole tutti questi interventi che ho sentito è veramente una cosa che è molto molto comodente per la mia famiglia dunque vorrei prima di tutto ringraziare il nome al nome di mio fratello Carlo di Borbone capo della famiglia per tutta l'amministrazione comunale di San Giorgio da Cremano per la sensibilità che avete mostrato nei confronti dei nostri gloriosi antenati e soprattutto a Cremano è stato un sovrano illuminato e che tanto ha fatto per i miei milioni in Italia perché lo amava tanto lo amava un sovrano illuminato che insieme alla mia moglie Maria Amelia considerava questa vera la sua vera casa come io devo dire è San Giorgio non a Cremano ma in realtà tutta la zona vesuviana ha una grande storia rigata alla mia famiglia grazie al re Carlo di Borbone verso la metà del settecento si diede un nuovo impulso alle attività economiche e sociali dell'intera era vesuviana furono costruite in quegli anni le splendide vile vesuviane che ho visitato ancora che vedo spesso e che ancora oggi sono presenti su tutto il territorio ne rappresentavano un valuto e potrebbero tornare essere un luogo di sviluppo economico e culturale e questo ci credo veramente moltissimo come sono già state e c'era in quegli anni del reno di Carlo III un fermento culturale e industriale che portò questi luoghi a diventare dei punti di riferimento internazionali e dobbiamo lavorare su questo perché abbiamo dei tesori che purtroppo ancora sono abbastanza conosciuti grazie all'influso economico generato dalla politica di rei Carlo III si fondarono poi in epoca successiva le officine pre-cassa e le fonderie di Ghetti modi industriali simbolo per la zona vesuviana di una nascita imprenditoriale e ministeriale che portava benessere e prestigio alla comunità territoriale in questo è in corso per fortuna un opportuno revisionismo storico e giorno dopo vengono scritte nuove pagine riferite a quel momento storico che ci restituiscono scusatemi e l'emozione una visione positiva e costruttiva del periodo borbonico non solo lo scultismo di quei storici del nuovo reino d'Italia volevano immaginare non solo lazzari e briganti ma una cultura raffinata una cultura di impresa e dello siluto sociale questa nuova visione lascia bene sperare che le generazioni future attenti a giovani vedo molti giovani e molto scoleschi conoscere la storia della propria tela della propria città e partecipare ad eventi come questo ricrea quell'identità culturale vissuta per i 126 anni e che tanto ha lasciato e tanto ha donato alla mia famiglia i giovani sono loro che tramandano la memoria e condivido con i giovani la gioia di essere qui vi ringrazio di cuore e vi saluto con tanto affetto è sempre emozionante ascoltare la principessa Beatrice di Borbone perché la sua eleganza la sua classe da principessa ti coinvolge ma la cosa più importante a mio modesto avviso è stata la presenza dei ragazzi di scuola media e lì il dirigente scolastico Enzo De Rosa ha fatto un piccolo miracolo perché ha portato il futuro ad ascoltare quello che è stato il passato ma sostanzialmente anche il nostro presente perché finalmente si apre uno spiraglio anche nelle scuole pubbliche laddove speriamo prima o poi si possa creare una specie di revisione della storia che la scuola sia l'istituzione che ha il dovere di insegnare ai nostri ragazzi la storia perché la storia è maestra di vita e quindi quello che l'amministrazione fa in questo momento è una situazione in più perché i nostri ragazzi abbiano il senso della cultura e del passato che ci insegna a vivere un futuro migliore per cui è stato detto tutto è stato detto tantissimo da persone che sono più qualificate di me per parlare di storia ma la sinergia che ci può già distingue Giorgio l'ha detto prima è un elemento in più è una marcia in più che noi diamo ai nostri ragazzi perché creiamo credo insieme alla collaborazione dei miei docenti perché poi quello che faccio io è una parte ma il lavoro più grande lo fanno loro e il percorso di toponomastica che li vede impegnanti è frutto di un lavoro che ha spesso la greca insieme alla professoressa Alfe del ex sindaco che mi onora della sua amicizia e di tutti i miei collaboratori che sono tra il pubblico per cui è utile sottolineare che senza il loro aiuto noi non potremmo dare queste opportunità ai nostri alunni per cui grazie a tutti della giornata veramente importante veramente che rimarrà credo sicuramente nella memoria dei nostri ragazzi grazie oltre a tutto quello che abbiamo visto perché ci siamo fatti una bella scorpacciata di immagini e di parole importantissime a quel punto si è scesi in piazza dove finalmente le bandiere del regno delle due Sicilie potevano sventolare e c'era l'orchestrina c'erano i bambini che dovevano cantare c'era la folla e c'era ancora un drappo da scendere per far vedere che finalmente questa piazza aveva il nome di Carlo di Borbone vediamo un attimo tutti gli aspetti torno a morire per le azioni che nel cielo tutti i piedi per i nuovi non più muove la mia scelta è il coro dell'associazione Maria Mali Brando perché sono sempre con noi in questi momenti abbiamo avuto una bella celebrazione sopra dei motivi per cui oggi siamo per intitolare la piazza del municipio la piazza più importante la piazza Carlo di Borbone abbiamo visto questo drappo che scende ed esce il nome di Carlo di Borbone un momento veramente importante e indimenticabile non solo per San Giorgio a Cremano ma per tutto il sud Italia perché evidentemente veramente qualcosa si sta muovendo e qui mi dilungo un attimo perché vorrei mandare il mio messaggio personale e questi sono momenti che dovrebbero accadere più spesso e in tutto il sud cambiare la toponomastica è complicato con la legge attuale però con la volontà degli addetti ai lavori dei sindaci e tutti gli altri questo si può fare veramente perché lo ha dimostrato il sindaco di San Giorgio a Cremano e visto che il sindaco ci aveva dato l'opportunità di intervistarlo io vi lascio appunto con le interviste sia la sua che quella di altri di personaggi che fanno parte del mondo meridionalista magari da diversi punti di vista ma che tutti hanno lo stesso obiettivo che voi sicuramente intuite quello di avere di nuovo un popolo duosiciliano con la sua dignità e la sua forza signor sindaco le faccio i complimenti perché oggi è una giornata importantissima perché lei come pochi ha avuto il coraggio insieme ad altri ovviamente di cambiare il nome alla piazza municipale sì è un importante gesto è un gesto di conoscenza a colui che è Carlo di Borbone che ha dato un impulso culturale fortissimo al nostro territorio nel Settecento e i torponi mi servono per ricordare coloro che hanno fatto grande un luogo grande una città e San Giorgio a Cremano deve le sue ville del Settecento e il suo impulso economico-culturale a quel periodo e quindi riconoscere la piazza più importante della città a una persona come Carlo di Borbone e l'altra a Massimo Troisi le due piazze principali della città penso che siano i due perni su cui improntare la nostra cultura da un lato un figlio della nostra terra come Massimo Troisi dall'altro Carlo di Borbone che ha dato tanto a quello che è il miglio d'oro oggi lo è grazie a lui caro professor Gulì di nuovo a casa sua nel senso di PUS Web TV e oggi abbiamo assistito a qualcosa di eccezionale per il territorio abbiamo girato pagina in una città abbastanza importante che appartiene al territorio riusuliano del miglio d'oro quindi proprio una città legata a Carlo di Borbone che hanno voluto finalmente ripristinare nella piazza principale togliendo quel criminale di Vittorio Emanuele II che aveva massacrato invece i nostri antenati finalmente un sindaco coraggioso nonostante le dimostranze dei filosofiardi che hanno mandato proteste al comune contro questa scelta del consiglio comunale che all'unanimità invece ha voluto indestare la piazza a Carlo di Borbone piazza che era stata sempre nominata piazza municipio ecco questo è importante la gente non ha mai detto piazza di Vittorio Emanuele nemmeno lo sapevano che era piazza di Vittorio Emanuele questa è una reazione molto frequente nel sud Italia basta pensare a Napoli piazza Ferrovia e il rettifilo veramente ha a che fare ne con Garibaldi e non con Umberto II quindi ecco il popolo sa bene che cosa fare e cosa dire e quindi oggi il popolo è contento è contento di questa targa che è stata poi scoperta dai ragazzini delle scuole medie proprio perché devono trovare un riferimento culturale e l'unico riferimento nostro è questo e quindi sarà anche un'opportunità per approfondire questa dinastia che ha molto da insegnare anche all'amministrazione moderna qui non si parla di nostalgia o di ripristino di monarchie si parla di valori più adatti al popolo come erano quelli che si facevano nel regno delle due Sicilie e che l'Italia purtroppo ha dimenticato da troppo tempo salve dottor Vitale ci rincontriamo mi fa piacere perché anche lei è padrone di casa più esse questo ci onora perché presenze come la sua impreziosiscono la nostra web dottore noi abbiamo ascoltato il suo intervento e diceva delle cose importanti l'Italia esiste eccetera eccetera però il primo coraggioso mi sa che è stato suo padre o sbaglio e per un figlio parlare bene del proprio padre non è non è il massimo comunque è così nel senso che è un dato oggettivo che la prima rivista di revisione storico del Mezzogiorno l'Alfiere uscì nel 1960 quindi sono quasi 60 anni all'epoca a nessuno saltava in mente di contestare la versione ufficiale i cosiddetti padri della patria del risorgimento erano contesi dalla destra dalla sinistra che li facevano propri quindi c'erano stati qualche opera sporadica qualche storico in buona fede pochi qualche romanzo come i romanzi di Carlo Alianello che avevano portato un punto di vista nuovo sulla tragedia che si era consumata in quegli anni ma a livello di opinione pubblica eravamo quasi allo zero quindi fu un fatto veramente eccezionale che dall'antica capitale del regno si levasse una voce perché sapete una rivista è cosa diversa da un libro perché una rivista vuol dire che c'è una corrente di opinione che la alimenta e quindi sta nascendo un piccolo ruscello che nel tempo si è ingrossato sono voluti molti anni oggi tante cose che venivano scoperte e portate alla luce dall'alfiere sono diventate patrimonio comune a volte si esagera a volte si deforma a volte però in linea di massimo alcune cose la nostra gente le ha capite bene cioè quello che accadde nel 1860 61 e gli anni seguenti per noi fu una vera e propria catastrofe Dottor De Crescenza oggi è stata una giornata importantissima per la zona per tutti i napolitani per quelli che studiano la storia come lei e la divulgano perché avere il coraggio che ha avuto il sindaco di San Giorgio non è semplice assolutamente no il sindaco di San Giorgio è stato coraggioso la giunta è stata coraggiosa l'assessore De Martino dobbiamo solo ringraziare chi ha reso possibile questa mattinata perché la storia non è passato non è solamente guardarsi indietro non è nostalgia la storia è come facciamo ormai da oltre 25 anni da Neoborbone c'è memoria poi orgoglio e poi riscatto quindi questa lapide i bambini che stamattina sono intervenuti vuol dire che si chiederanno chi era questo signore Carlo Di Borbone Carlo Di Borbone è la nostra radice sono queste pietre sono le cose che ha lasciato su questo territorio in particolare quello vesuviano le ville le regge le fabbriche insomma è tutto questo e tutta questa roba a noi serve non per tornare indietro nel tempo ma per andare avanti nel futuro perché dalla memoria si passa all'orgoglio e dall'orgoglio al riscatto Fernando Riccardi sei venuto dall'alta terra di lavoro perché questo era un momento importante un momento veramente storico per quello che riguarda la nostra causa si era un dovere essere oggi qui a San Giorgio a Cremano perché con l'intitolazione di una piazza Carlo Di Napoli e contemporaneamente l'aver tolto all'autopodomastica cittadina un nome importante dei padri della patria come era Vittorio Emanuele II di Savoia meritava la nostra presenza di essere partecipi a questa manifestazione quindi un plauso all'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano un plauso a tutti quanti noi che sono anni che cerchiamo di rimettere un po' in piedi quella che è stata la nostra vera storia e quindi di celebrare in maniera degna quelli che erano i nostri personaggi senza andarli a cercare di altri che ad oggi appartengono insomma l'autopodomastica di San Giorgio che ad oggi un po' in piedi attrazione all'unico che ad oggi l'autopodomastica di San Giorgio